Ciao a tutti, gli anni 90, fantastici anni 90, quanti dischi pazzeschi, questa è la mia personalissima classifica dei dischi che compiono o hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, trovate quella del 94 fatta lo scorso anno e adesso sto facendo quella del 1995. Non troverete un sacco di dischi, anche perché ripeto sono usciti veramente in quegli anni tantissime perle, quindi molto probabilmente il vostro disco preferito non ci sarà, scusatemi in anticipo, ma ne ho dovuti scegliere solo 10 e sono i 10 ai quali sono più affezionato probabilmente. 4 Dimension degli Stratovarius, questa è una scelta mi rendo conto poco condivisa, a me gli Stratovarius in quel periodo piacevano tanto e dal 95 questo è il primo album dove hanno trovato un po' la quadratura del cerchio con grandissime canzoni, power metal, quindi chi non segue il power metal non sa neanche di cosa sto parlando probabilmente, ma a me quel disco piace tanto. Quindi decima posizione Stratovarius, 4 Dimension. Non ho posizione per un disco dei Rage che non ho in questa doppia confezione, praticamente un doppio CD, praticamente Black in Mind, insomma Black in Mind dei Rage, grandissimo disco, seppur registrato, le registrazioni in quel periodo non erano granché, cioè Sand by the Devil e Black in Mind che sono due fra le canzoni più belle della discografia dei Rage e non posso non inserirlo in classifica. The X Factor degli Iron Maiden in questa confezione, ahhh cadente, ahhh insomma è un po' danneggiata, niente questo è un disco, questa è la copertica censurata e poi questa è stata messa al posto di quella ma io l'ho girata al contrario per come doveva essere. Questo è The X Factor, primo album con Blaze Pallery, ero ragazzino, ero super fan degli Iron Maiden, ho consumato questo disco nonostante non sia un capolavoro, ma è comunque un ottimo disco degli Iron Maiden. Non ce l'ho in edizione fisica e forse non sta neanche troppo al canale perché c'è anche del pop, ma questo è un disco, was the story, morning glory, ve lo faccio vedere così al computer. Niente, un disco uno dei più importanti sicuramente degli anni 90, forse il più importante di quell'anno, insomma un disco, tra l'altro questa è una strada di Soho a Londra, dietro, insomma lavoro dietro l'angolo, quindi passo praticamente giornalmente da questa strada. Oggi è un po' diversa, sono passati appunto 25 anni. Niente, è un disco, a parte Wonderwall, che non la voglio più sentire neanche per sbaglio perché è troppo inflazionata, ma veramente è un champagne supernova, roll with it, sono un sacco di bellissime canzoni, quindi non alzo le mani e mi arrendo alla bellezza e anche all'importanza di questo disco. Altro disco, questo ce l'ho in, ce l'ho a Londra, quindi non lo trovo qui, Alanis Morissette, Jack Biddlepil, disco debut di Alanis, singoli, uno meglio dell'altro, Ironic, ho fatto un video recentemente, insomma recentemente, su Yola Now, veramente un grandissimo disco. Andiamo ai primi cinque, questi sono quei fuori di testa di The Fate No More, questo è King for a Day, Fool for a Lifetime, niente, un disco, questo è il disco preferito di Mike Patton, The Fate No More, infatti niente, ci sono degli episodi veramente di follia, follia pura. Non mi piace tutto, è questo, quello che non mi fa amare alla follia questo disco, però ci sono delle canzoni che sono The Gentle Out of Making Enemies, già solo dal titolo vi fa capire La Follia o Ugly in the Morning, niente, questo è un disco assolutamente folle, è registrato benissimo, un grandissimo disco dei Fate No More, grande, grande, grande. Non piace quasi a nessuno è che io invece stra adoro, sono gli Skid Row più appesantiti da Bob Rock, il produttore del Black Album, che cambiano un po' pelle, infatti My Enemy suona quasi Black Album, niente, a me gli Skid Row più potenti piacciono un sacco, non sono piaciuti a molti e il gruppo poi praticamente si sceglierà da lì a poco, insomma, non per questo disco ma per problemi interni, però a me questo disco piace davvero, davvero tanto. Siamo al podio, uno dei miei dischi preferiti di Of The Over, uno di quelli sottovalutati, l'ho detto in tante occasioni, un giovane Zack Wilde, un Ozzy che in sede di registrazione litigò morte col produttore perché il produttore diceva no, cantala meglio, no, ma questo è quello che io so fare, no, la devi ricantare meglio, niente, è un disco fatto benissimo, chitarra di Zack Wilde, strepitose, ballad strepitose, all the late tonight, riff strepitose, canzoni smipop, un disco semi pop metal, uno dei più riusciti secondo me di Ozzy, non vado oltre perché se no dovrei farci delle recensioni, poi magari la farò in altre occasioni, o forse l'ho già fatta, non ricordo. Questo non è un album, questo è un EP del Dream Theater, un EP insomma dura un'oretta, non dovrei metterlo in classifica perché ho sempre considerato poco gli EP, ma c'è Change of Season che è una canzone di 23 minuti e 0,4 secondi, se la memoria non mi inganna, che è una delle mie preferite di sempre, niente, questo qui poi contiene un live con tante cover, quindi insomma è un disco a tutti gli effetti, a Change of Season, se conoscete la storia del Dream Theater, sono sicuro che sapete di cosa sto parlando. Capolavoro, capolavoro. Ci ho registrato una recensione, la seconda recensione, la vedrete o forse l'avete vista, sto registrando un sacco di video e non so in che ordine li pubblicherò, questo è NOLA, un side project di Phil Anselmo e altri membri dei Corrosion of Conformity e dei Crowbar, niente, questo è un disco, secondo me è nato, cioè è epocale anche se è nato per caso, questo è un disco clamoroso che magari molti non conoscono. Vi rimando alla recensione, anzi più che vi rimando alla recensione, alla mia recensione, vi rimando proprio al disco, quindi andatevelo ad ascoltare, piuttosto che guardatevi la recensione e andatevi ad ascoltare il disco. Niente, questa è la mia top ten, fatemi sapere se siete d'accordo, fatemi sapere i vostri dischi preferiti del 1995, mettete un like, ciao a tutti, alla prossima!